Una conferenza in Procura a Biella per sottolineare un intervento importante. Intanto è stato eseguito un fermo e un arresto per tentato omicidio. Il Procuratore ha sottolineato davvero l'importanza e il valore, l'impegno delle forze dell'ordine, in questo caso della Polizia di Stato, nell'attuare questo intervento così. Per quanto mi riguarda, noi come Procura abbiamo fatto il nostro, e cioè abbiamo contribuito alla cattura di questo soggetto e all'arresto della persona che lo aveva nascosto. E probabilmente eludere l'arresto nel primo giorno in cui erano intervenute le forze dell'ordine. Ma intanto ci spieghi cos'è accaduto? Il giorno 24 c'è stato un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della squadra mobile come repressione allo spaccio delle sostanze stupefacenti. In quella situazione era stato posto un posto di controllo e dato l'alta a un'autovettura che ovviamente era attenzionata dalla squadra mobile. Quest'alta non è stato rispettato e sono state speronate tre macchine della Polizia di Stato. Nella situazione è stato anche gravemente ferito un agente di polizia che ha subito una prognosi iniziale di 30 giorni per trauma contusivo. A seguito di questo episodio la Procura della Repubblica ha emesso un fermo di indiziato per reato di tentato omicidio aggravato e quindi noi questa mattina abbiamo disposto un servizio straordinario alla ricerca proprio di questo latitante dove hanno partecipato operatori della squadra mobile, dell'UPGSP e l'ausilio anche del reparto prevenzione crimine di Torino. Quest'uomo è stato ritrovato all'interno di un appartamento di proprietà di una donna già arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti ai domiciliari attualmente. L'aveva nascosto consapevole che era un ricercato della polizia e aveva inizialmente dichiarato che all'arrivo dei colleghi era fuggito. In realtà abbiamo scinturato la zona, abbiamo cercato e una parte dei colleghi hanno continuato la perquisizione in casa trovandolo e quindi lui è stato, gli è stata data esecuzione al fermo di indiziato il provvedimento emesso dalla Procura. La donna è stata arrestata per favoreggiamento personale. Ecco, dicevamo veramente in pochissime ore quindi la conclusione di un intervento di questa portata tra l'altro insomma quasi un investimento e un inseguimento che ha messo in pericolo anche chi poteva transitare in quel momento. Questo sicuramente, questo dà però, serve per far capire la gravità la gravità di questa condotta che in realtà potrebbe essere semplicemente una resistenza sì, una resistenza, però in questo caso addirittura hanno provato a uccidere una persona quindi a investirlo. Di qui quindi la sinergia che ne è venuta dopo anche grazie all'intervento con gli acronimi sono terribili Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico Esatto Il reparto Prevenzione Cris Esatto, perché in questo modo non si sono trovati soli il personale della mobile ma grazie anche all'aiuto importante che hanno ricevuto sono riusciti nel giro di pochissimo tempo a chiudere questa vicenda. Belezzo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.